Ad oggi le sensazioni che abbiamo sono sensazioni positive perché ovviamente l'intervento si è concluso nel migliore dei modi e quindi portiamo a casa un ricordo positivo e la soddisfazione e la gioia di aver in quel momento salvato la vita di un uomo e di essere riusciti a farlo tornare a casa facendolo desistere. Poi il consiglio che possiamo dare alle persone che assistono a questi eventi che purtroppo possono verificarsi è quello appunto di chiamare tempestivamente le forze dell'ordine e richiedere immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine in modo da appunto riuscire magari a salvare qualcuno senza porre a rischio la propria vita. Questo è importante perché la tempestività con cui viene fatta la richiesta dell'intervento fa la differenza e può salvare appunto vite umane. Il rischio è in qualsiasi momento però ci sono questi interventi dove realmente sei soddisfatto della conclusione dell'intervento che è andato a buon fine. Sono davvero contenta del riconoscimento che i ragazzi hanno avuto da parte del sindaco. È stato un pensiero davvero inaspettato. Ai ragazzi ha fatto piacere, ha fatto piacere a noi come Polizia di Stato. Il questore ci ha tenuto a fare in modo che la consegna degli incomi avvenisse anche in questura e in sua presenza e ha ringraziato pubblicamente il sindaco e i ragazzi per il loro coraggio. Quello che comunque mi preme anche rappresentare è la soddisfazione che i miei ragazzi hanno avuto nel sapere che non solo hanno salvato una vita ma che la gente che rappresenta ha potuto constatare il loro impegno, il spirito di sacrificio, l'abnegazione che impegnano ogni giorno nel loro lavoro. Grazie.